Ciao amici e Revotech a tutti. A sto giro non posso buttare la scatola sul tavolo perché rischio di bucare la scrivania e di sfondare completamente la struttura del tavolo. Perché? Perché non sto scherzando, ci troviamo davanti a una cosa che non abbiamo mai visto in vita nostra. Avete visto che sul nostro canale sono girati spesso i rugged phone di ogni tipologia, di ogni capienza, pesantezza, ingombro e quant'altro. Ma qui ci troviamo di fronte a un telefono assolutamente bestiale che non oso definire, cioè non riesco a trovare un termine adatto per questo tipo di device. Si tratta comunque del brand Unihertz, marchiato 8849 e il nome del device è Tank 3 Pro. Un dispositivo che a vedere dalla scatola sembra uguale a tutti gli altri ma in realtà è diverso e porta con sé delle chicche mostruose. Una di queste ad esempio è il proiettore integrato DLP da ben 100 lumen, ma non voglio spoilerarvi altro perché sì, lui è un proiettore integrato con tanto di ventola di raffreddamento inclusa, ma tutto il resto ve lo diremo subito dopo la sigla. Mi raccomando venite sul nostro blog ceotech.it, blog di tecnologia più faigo che ci sia, a leggere tutte le nostre recensioni scritte. Unitevi alla nostra community, Revotech Group su Telegram, salutiamo anche gli amici malati di smartphone, di smartwatch e tutto il loro network. Adesso apriamo questo mega oggetto dalle dimensioni esageratamente grandi e da un peso che io non ho mai visto per quanto riguarda un rugged phone. Perché qui andiamo oltre al rugged phone, qui abbiamo praticamente una centrale elettrica portatile. Guardate lo spessore e l'ingombro di questo device che vado a liberare dalla pellicola. Ecco, frontalmente potrebbe sembrare un rugged come tutti gli altri, ma appena lo metto di lato, guardate che roba. Classica torcia da campo, telaio in alluminio rinforzato anche sui fianchi, ventola di raffreddamento, vedete, che ha questo ingresso e ha questa uscita, e proiettore nella parte anteriore, oltre a un sensore a infrarossi. Anche il comparto fotocamera è bello fornito, vedete, quattro sensori più gli infrarossi e il flash LED. Ma andiamo con ordine, le dimensioni, 179 x 86 x 29,8 mm di spessore, se avete capito bene, e ben 696 grammi di peso. Parliamo di quasi 700 grammi. Può servirvi per fare pesi, ecco, se volete, diciamo, sviluppare un po' i vostri muscoli delle braccia, questo sicuramente può aiutare in certe situazioni di noia. Lo andiamo ad accendere, mentre lo accendiamo vi do qualche altra info. Ecco qui il brand, 8849. Vediamo intanto cosa c'è nella scatola, mi sono fatto prendere, diciamo, dall'entusiasmo. Librettino di Abbi Rapido, vedete, c'è il triplo slot, due nano SIM e una microSD, perciò senza rinunciare a nulla. Qua mi fa vedere le indicazioni della fotocamera. C'è anche un sensore barometrico incluso, una fotocamera ultrawide, una fotocamera dedicata alla visione notturna e anche una luce rossa qui dedicata. Vedete, oltre alla luce da campo, c'è anche una luce rossa per le emergenze e l'SOS. Davvero una centrale di sopravvivenza, ma anche una centrale multimediale e lo vedremo tra poco. Poi c'è un altro fogliettino, tutto in cinese, e un vetro ulteriore di protezione, un caricatore incluso in confezione enorme da ben 120 watt, power delivery, vedete, con ingresso USB-C e il suo cavetto di ricarica USB-C, USB-C. Non c'è altro, non ci sono tupperelli, non ci sono arnesi, strani e altri componenti. Torniamo al nostro telefono, che diciamo che fra le tante cose telefona anche, ecco. Questo device è dotato di un Dimensity 8200, una batteria enorme, esagerata da ben 23.800 mAh, una ventola di raffreddamento, uno schermo HD da 6.79 pollici, e una fotocamera principale posteriore da ben 200 megapixel e le varie luci da campeggio che abbiamo citato in precedenza. È dotato di Android 13, non è ancora uscito Android 14, memoria 16 giga di RAM e 512 di storage interno, certificazione IP68 e frequenza di aggiornamento del display a 120 Hz. Vedete l'animazione dello sfondo, qua c'è un menu con un tasto dedicato al proiettore, che poi andremo a vedere dopo. Il device è molto molto fluido, perché è reattivo e ha un ottimo comparto hardware. Andiamo a vedere su AIDA64 le componenti di questo mattone. Tank 3, 8849, ha 18 giga di RAM, non 16. Questa è la versione da 18 giga di RAM. Bluetooth 5.3, 4 nanometri, MediaTek Dimensity 8200, schermo 1080x2460, 6.79 pollici, e la GPU una Mali G610MC6. Rete batteria, una batteria da 23.800 mAh, esagerata. Impostazione schermata Home, App suggerite, menu Mode Switch, ecco per abilitare le Home, se non vogliamo la modalità cassetto, cosa che io preferisco sempre. C'è il registratore vocale, c'è, dovrebbe esserci la radio FM, l'NFC, vediamo se c'è di default, sì, c'è. Andiamo a vedere le reti, togliendo intanto la rete Wi-Fi, c'è anche il 5G, quindi avere un rugged con anche il 5G, non è mai scontato, perché di solito quasi tutti si limitavano al 4G, neanche 4G+, e questo è un bel mistero. Invece questo ha anche il 5G, perciò è sicuramente un fattore in più. Il display è veramente reattivo, andiamo a vedere nelle impostazioni, c'è anche un menu dedicato al proiettore, dopo lo andiamo a vedere. Display, eccolo qua, luminosità, abbassiamo un pochino, non è molto luminoso, il display, devo dire. Dimensioni carattere, test in grassetto, aumentiamo un po' così ci vediamo meglio, risoluzione automatica dello schermo, solleva per attivare, non c'è il doppio tap per il risveglio, ecco qua il refresh rate, vedete? C'è selezione automatica, oppure 120, 90 o 60 Hz. Mettiamo 120 per adesso, tanto ha una batteria talmente esagerata, che mi può durare tranquillamente almeno 10 giorni, perché io da quando l'ho preso, l'ho caricato una volta, fino al 100%, ho usato anche il proiettore diverse volte, con l'app Netflix, e non sono ancora sceso sotto all'80%, parliamo di quasi 24.000 mAh di batteria, è una cosa assurda, perciò almeno 10 giorni, forse anche due settimane, con un utilizzo normale, potete farli, è un mostro, è una centrale, è una mega power bank, che vi accompagnerà praticamente sempre. Andiamo a aprire qualche app, per vedere come gestisce il refresh rate, molto bene, vedete com'è bello fluido, apriamo anche Instagram, risponde bene il touch, ci sono le gesture in questo momento, apriamo anche qualche altra app, guardate la fluidità del display, senza indecisioni, anche qui nelle notizie, siamo sotto rete dati adesso, adesso mettiamo il wifi, guardate com'è reattivo il touch, e fluido al tocco. Apriamo anche una notizia qualsiasi, mettiamo sito desktop, non ci sono ritardi, non ci sono lag e micro lag, nell'esecuzione dell'apertura delle pagine web, ed è tutto veramente velocissimo. Andiamo di sito desktop anche qua, guardate, davvero ottimo. Le funzioni di proiezione sono molto intuitive, allora il display viene proiettato, come se fosse una proiezione wireless su un tv, direttamente sulla parete davanti a voi, tramite questo, vedete, questa lente, e la proiezione è di ottima qualità, con un'ottima visibilità e luminosità, ovvio che ci deve essere penombra e buio, altrimenti, ecco, adesso, qua ci sono poi le impostazioni, vedete, orientamento, luminosità, si può abbassare, poi correzione trapezoidale automatica, stile proiezione automatica o trasversale, se volete che lui in automatico cambi l'orientamento, preferisco trasversale, così lui mi fa già la proiezione in orizzontale, non devo girare il telefono, ma è una comodità mia, perché a me non piace vedere il telefono col display in verticale, ma siccome mi piace guardare contenuti multimediali, film, eccetera, mi piace vedere a tutto schermo, perciò con queste impostazioni potete settare il proiettore come volete, poi qua ci sono dei comandi ulteriori, qua ci sono le info sul device, vedete, adesso il proiettore è attivo, quindi lo disabilitiamo, vedete si può abilitare la RAM virtuale fino ad ulteriori 18 giga, una cosa che non ha assolutamente senso, ma c'è chi ci gioca sopra e si diverte a fare queste robe, posteriormente abbiamo quattro sensori, uno da 200, uno da 50, uno da 8 e un ultimo da 64 megapixel e frontalmente una 50 megapixel, tutto questo ben di dio a livello di funzionalità è una cosa che si paga, perché avere un proiettore integrato, una batteria del genere, il 5G, una fotocamera comunque sulla carta molto performante, e avere sempre una proiezione integrata, utilizzabile quando volete, quando siete in viaggio, senza portarvi dietro delle casse aggiuntive, perché comunque lui ha un ottimo speaker, intanto mettiamo l'audio di YouTube, per sentire come si comporta l'audio standard, ciao amici, è Revotech a tutti, oggi vi voglio parlare di un argomento un po' diverso dal solito, è abbastanza alto, ho trovato una roba portentosa, strepitosa, ma ci torneremo dopo, la Bluetti AC 180, potrei definirla come un generatore elettrico, come una centrale elettrica, che è lo spessore abnorme di questo smartphone, qua poi ci sono i due tasti rapidi per le luci di emergenza, guardate che roba, ma come gruppo di continuità è quasi sprecato, impressionante, questa è una luce a infrarossi che si attiva col buio, se io abilito il proiettore, guardate che si mette a posto automaticamente, sto proiettando sulla scrivania con la luce intorno, adesso spengo la luce, qua è proiettato su un tavolo, adesso vi faccio vedere anche come viene proiettato su una parete, e si vede veramente bene, non c'è poi latenza fra il parlato e l'audio, perciò devo dire che è un prodotto che per ogni evenienza, se volete guardarvi un film, e avete solo uno schermo piccolo del telefono, e siete non so in un gruppetto di amici, con questo qua potete proiettarlo anche di notte, su una parete di una casa, e vi potete guardare un film anche all'aria aperta d'estate, senza nessun tipo di cavo o ingombro ulteriore, insomma questo è sicuramente un vantaggio non da poco, avere un proiettore di questo tipo, che vi segue ovunque, sentite la ventola, sto avvicinando al microfono, questo è il rumore della ventola, porta per accendi sigari, è ovvio che visto che si tratta di una batteria gigante, la C180 ha un'entrata d'ingresso, quella necessaria per caricarla, e una di uscita, e sono questi insieme alla capacità totale, a definire un prodotto di qualità come questo, e a fornire gli elementi necessari, per metterlo a confronto con le soluzioni concorrenti, la C180 offre un'ampia scelta, per quanto riguarda la ricarica, il primo è l'ingresso tradizionale da 1440 watt, compresa al sciuco, l'ingresso lo troviamo sul lato, ed è la soluzione consigliata, nel caso in cui si debba utilizzare i bluetti come OPS, poi ovviamente se non siete soddisfatti dell'audio dello smartphone, potete collegare un dispositivo esterno, e uno speaker esterno, tipo quello dell'altro smart, che abbiamo recensito, e farvi veramente una specie di cinema all'aperto, è espandibile con una micro sd fino a 2 terabyte, tra l'altro in più le foto comunque vengono bene, c'è anche una fotocamera per la visione notturna a infrarossi dedicata, c'è la possibilità di avere anche durante la proiezione, come già vi ho fatto vedere, un refresh rate che può essere impostato sia per il display, che per la proiezione fino a 120 Hz, contrasto 460 a 1 e potenza di 100 lumen, tra l'altro c'è una rotella qua di fianco, che vi aiuta a posizionare la messa a fuoco, quando proiettate manualmente, senza dovervi adattare alla distanza dalla parete, o dal supporto che state utilizzando, perciò con questa rotella in alluminio, potete regolare voi stessi la messa a fuoco, davvero una furbata. Come reattività non ci sono assolutamente problemi, andiamo a vedere il sistema, aggiornamento di sistema è Android 13, le patch di sicurezza di ottobre 2023, un po' vecchiotte, speriamo che aggiorni, avevamo fatto anche un aggiornamento importante, ma ancora Android 14 non è arrivato, speriamo che un prodotto del genere, con tutte queste funzioni così interessanti, con questa forza bruta, venga aggiornato nel tempo, questo è molto importante. L'immagine si aggiusta automaticamente, durante la proiezione, anche se non siete perfettamente allineati, la funzione trapezoidale si aggiusterà automaticamente, potete proiettare su un soffitto, su una parete, la ventola permette di mantenere sempre le temperature sotto controllo, che non vadano mai a esagerare, anche in condizioni di caldo, non avete mai la preoccupazione di dover interrompere la visualizzazione, per temperature eccessive. Si presta a tantissimi tipi di utilizzo, e di sicuro non vi mancherà mai l'energia, guardate ci abbiamo smanettato durante questo video, e abbiamo perso appena un 1% di autonomia, con tutte le cose che abbiamo smanettato negli ultimi 20 minuti. C'è poi la, come dicevamo, fotocamera dedicata notturna da 64 megapixel, con visione notturna. Per quanto riguarda le luci di emergenza, c'è l'SOS, c'è la modalità flash, e la modalità rosso e blu, qui a intermittenza, per quanto riguarda i segnali di emergenza, nel caso in cui vi perdiate, o ne abbiate bisogno, se siete in avventura, in escursione, in un campeggio, in gita, eccetera. In mezzo a un posto sperduto, vi aiuterà senz'altro, e sarà una cosa in più. È dotato anche di GPS GLONASS, BEIDU e GALILEO, come sistema satellitare, e ovviamente è resistente agli urti, all'acqua, alle cadute, alle intemperie. L'unica cosa veramente fastidiosa, per avere tutta una serie di vantaggi, è il peso, che è di 700 grammi, perciò vi servirà uno zainetto, o un marsupio dedicato. C'è anche il supporto per un laccetto, però, attenzione, perché potrebbe portarvi con sé. C'è anche addirittura il jack audio, internamente, vedete qui, nella parte dove c'è il connettore USB-C, c'è anche il jack audio da 3,5 mm, con questa chiusura stagna, microfono, speaker, che esce da qui, capsula auricolare nella parte alta, e buco con la mente intorno, per la camera frontale, come dicevamo, da ben 50 megapixel. Il bluetooth è il 5.3, abbiamo detto, non gli manca assolutamente nulla, perché c'è l'NFC, c'è il 5G, c'è la doppia sim, c'è il triplo slot, c'è una batteria esagerata, c'è un ottimo SOC, e perciò, ragazzi, sia come prestazioni, che come compagno di viaggio, e power bank, votato all'esperienza multimediale, soprattutto se sei in compagnia, davvero un prodotto da consigliare, al netto però, di un prezzo veramente alto, perché si parla di circa 800 euro su Aliexpress, perciò attenderemo la prossima promozione, per fornirvi un coupon, e un'offerta adeguata, perché il prodotto, in certi momenti, lo troviamo in offerta, a circa 600 euro, con le promo lancio dedicate su Aliexpress, c'è la versione poi da 18 giga, che costerebbe questa la nostra, costerebbe più di 900 euro, e di listino addirittura 1.651 euro, e mentre la versione da 16 giga, di RAM 843, a fronte di un prezzo di listino, di 1.500 euro, però attendiamo le promo a tempo, per potervi dare la possibilità, se vi interessasse un prodotto di questo genere, di acquistarlo a una cifra più umana, attorno ai 600-650 euro, che sarebbe un ottimo prezzo, per quello che offre questo dispositivo, perché è veramente, una roba impressionante, lui è un compagno, soprattutto di viaggio, e di avventura, con la chicca, di avere la funzionalità, della proiezione, che di sicuro, faragola a molti, detto questo, salutiamo tutti gli amici malati, di smartphone, di smartwatch, e tutto il loro network, se avete altre domande, fatecele, siamo qua per voi, venite sul nostro gruppo, ReboTech Group, vi aspettiamo in tanti, commentate in tanti, venite anche sul nostro blog, ceotech.it, il blog di tecnologia, più faico che ci sia, a leggere tutte le nostre, recensioni scritte, ci vediamo prestissimo, un saluto da Pasqui, e ReboTech, a tutti, ciao! I'm walking alone in the streets of Emotions,